Buongiorno, buon mattino E' brutto il fatto ragazzi, sono finiti i soldi, è passato per agosto, sono finiti i soldi, tutti a piangere adesso, perché tra poco bisogna pagare le tasse, bisogna pagare le vendite, la gente già incomincia a vendersi a barca, alla motocicletta, all'automobile, tutte queste cose, mamma mia, mi viene una febbre, solo a pensare. Bene, però, 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 aspetta un po', mi è venuta un'idea. Sapete che facciamo? Sì, adesso ve la dico, però non diffondete la notizia, se no, dobbiamo creare, sì, dobbiamo creare un'associazione culturale, va bene? Così, non facciamo altro che creando l'associazione, prendiamo i finanziamenti e in parte riserviamo il problema dei nostri buffi. Mi raccomando, e poi facciamo le iscrizioni, intanto apriamo l'associazione culturale, quindi, in modo tale, va bene? Di fatto io ho fatto sto cartello, cercasi soci bisognosi, va bene? Però non diffondete la notizia, se no, qui è finito, tutti quanti, voi chiamatemi, va bene? Scrivete nei commenti, mettete like, scrivete nei commenti che poi ci organizziamo, ok? Se dobbiamo fare l'associazione culturale riusciamo a risolvere i problemi dei nostri buffi, perché ci danno i finanziamenti subito, in pochissimo tempo. Va bene, ora vado a bere il caffè, mi raccomando, acqua in bocca, a domani. Ciao!